Quindi scrivi e disegna, non usare grafica. Allora io qui ho trovato una slide che è creata, vedete, da un gruppo editoriale, quindi con i suoi esperti, perché un gruppo editoriale, voi lo sapete, magari avete lavorato, anche avete prodotto di libri di testo, un gruppo editoriale ha i suoi grafici a disposizione, disegnatori e così via. Presenta questa slide che dice, la Terra è il pianeta dell'acqua e della vita. E poi dice, la Terra si trova nel sistema solare, è un corpo prevalentemente solido caratterizzato dalla presenza di litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. Perché non è bella questa rappresentazione? Perché manca quella bellezza cognitiva, quella bellezza che ha a che fare con la composizione cognitiva? Perché? Ma io lo trovo freddissimo, non comunica granché, è un'informazione. È un'informazione, è fredda, è vero. Perché c'è questa freddezza? C'è questa freddezza perché è sbagliato proprio il rapporto, la composizione cognitiva è sbagliata. Osserviamo. Anche il titolo e l'immagine che c'è non esprime, cioè il titolo è bello, la Terra è il pianeta dell'acqua e della vita e poi ti si ghiaccia con quell'immagine lì. Esatto, bello, molto bello. È giusto, è assolutamente giusto quello che hai detto. Perché? È proprio questa la questione di fondo. Perché qui abbiamo una bella immagine presa in sé. Voi immaginate di assistere a una videoproiezione a tutta parete con questa immagine, una bella musica sotto. È fantastica. Perché è fantastica? Perché è un punto di vista che noi non abbiamo. Cioè a meno che qualcuno di voi non sia stato su un'astronave, non è un punto di vista questo tradizionale. Dunque, tutto ciò che non riguarda un punto di vista tradizionale ed ha a che fare con la natura è sicuramente bello, interessante e stimolante. È forse per questo motivo che è stata scelta questa immagine. Peccato però che come avete rilevato si parla dell'acqua e della vita e qui non c'è né acqua né vita. Peccato che qui si parla di sistema solare, ma non vediamo niente del sistema solare. Vediamo un ammasso che è probabile che sia, sarà la Luna? Sarà un'immagine della Terra vista dalla Luna? O non lo so? E poi si dice, parla di littosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. Cioè osservate, abbiamo un concetto che è l'acqua e la vita. Uno, due, tre, sistema solare, quattro, cinque, sei, sette concetti. Più un corpo prevalentemente solido. Abbiamo otto concetti all'interno di una slide che, udite udite, non ne rappresenta neanche uno. E' un errore molto comune questo. Perché? Perché noi siamo vittime della bellezza. Ma curioso, come? Siamo vittime della bellezza e non applichiamo la bellezza? E' certo. Per esempio siamo vittime di questa immagine. Abbiamo trovato questa immagine, abbiamo giudicato bella e attorno a questa immagine abbiamo costruito che cosa? Niente, perché in realtà noi avevamo in mente di dispensare una serie di concetti e li abbiamo appiccicati all'immagine. Cioè non abbiamo costruito qualcosa intorno a questa immagine. Ecco perché la prima regola dice, ma scusate, prendete carte e penna, fate un piccolo disegnino, mettete due frecce. Guardate, già solo così, naturalmente abbiamo eliminato l'inconveniente che voi stessi avete denunciato, che è quello della freddezza di questa immagine. Perché un disegnino è meglio di questa slide? Perché intanto il disegno vi costringe a pensare a quello che dovete mettere, scrivere e rappresentare sulla pagina. Mentre l'immagine e il testo sono delle scelte, se volete, il disegnino ha una rappresentazione vostra. Poi una rappresentazione che vi mette in gioco. Non sapete disegnare l'omino proprio perfetto, l'astronauta, che ne so, il grafico con l'idrosfera, una rappresentazione così in modo perfetto, non importa. Purché sia un minimo comprensibile, ovviamente, un minimo comprensibile, è largamente meglio questa scelta piuttosto di una fredda slide. Quindi abbiamo, in questo caso, abbiamo un'assenza di oggetti. Perché? Perché appunto il sistema solare ed eventualmente la rappresentazione dell'atmosfera, con tre colori, non lo so, il blu, l'azzurro, il bianco, e poi una breve scritta atmosfera, biosfera, idrosfera, magari anche in due slide anziché una sola, avrebbe determinato un interesse maggiore. Un interesse che cosa significa? Significa che noi rimaniamo colpiti dalla rappresentazione estetica quando questa non è neutra, non è grigia. Quindi noi rimaniamo colpiti dal brutto e rimaniamo colpiti dal bello. E se, diciamo, quello che noi stiamo facendo ha a che fare con una composizione cognitiva riuscita, indipendentemente dalla qualità del nostro disegno, la rappresentazione è bella e quindi colpisce.